Tre acquisti, a definirli colpi però, ce ne passa. Alla fine il Pescara chiude il mercato con sette ingaggi, tre nell'ultima ora di una giornata che poteva regalarne almeno il doppio, alcuni dei quali anche di sostanza. Ma in un pomeriggio dalle mille voci che si rincorrono, il Delfino va vicino a Salamon, che sceglie il Milan, al genuano Bovo, sfiora per un attimo soltanto il laziale Kozak, passando per D'Aprela, Ferrario e qualche altro ancora. L'acquisto migliore è senza dubbio Nando Sforzini, attaccante dal fisico possente che al Pescara ha segnato da avversario gol a grappoli e che già in estate sembrava destinato ad approdare in rival adriatico. Su Sculli e Zauri, che la Lazio aveva da tempo messo ai margini, non ce ne vorranno i dirigenti del Pescara, ma preferiamo non esaltarci, in attesa, perché no, di essere smentiti dal campo. Il dato oggettivo è che i due non giocano da troppo tempo e il tentativo di sottolineare gli allenamenti portati avanti con impegno francamente non convince. Chiunque sa che tra allenamento tirato e gara di campionato ce ne passa, ma guai a fasciarsi la testa prima di rompersela. Magari, Sculli ritroverà lo smalto dei tempi migliori e porterà con i suoi gol alla salvezza il Delfino. Mentre il 35enne marsicano Zauri riuscirà a riprendersi i panni del difensore granitico che fu. Certo è che serviva come il pane un centrale di ruolo e Zauri può diventarlo solo all'occorrenza. L'altro colpo poteva essere quel Casami che chissà se arriverà. Intoppi con internet per la mail che gli inglesi del Fulham non sono riusciti a ricapitare per le 19, termine ultimo del mercato andato agli archivi. Il Macedone di origini albanesi e di passaporto svizzero in Inghilterra l'hanno visto poco e nulla, ma tutti sono pronti a scommetterci sul talento. Il Pescara si è rivolto alla UEFA per rivendicare le sue ragioni. A breve il risponso. Basterà? Ma soprattutto la campagna d'inverno basterà ad alimentare le speranze di salvezza della squadra di Bergodi?